Le interviste di Leggo Cassino Ed eccoci qui, siamo nuovamente al Medaglia d'Oro di Cassino, avete visto una scuola completamente innovativa siamo partiti dall'intervista al dirigente Marcello Bianchi che abbiamo fatto vedere questo progetto della data con i ragazzi che entrano e escono, vanno da una classe a un'altra con veramente un progetto all'avanguardia e c'è inoltre qui al Medaglia d'Oro un indirizzo a curvatura sportiva molto particolare perché all'interno di questo indirizzo a curvatura sportiva c'è anche un'ora di scacchi a settimana ne parliamo oggi con la professoressa Paiuca, buongiorno e benvenuta Buongiorno, benvenuti a voi, sono davvero orgogliosa di mostrarvi il laboratorio di scacchi in questo momento siamo proprio nell'aula dove si svolge un'ora settimanale di scacchi sulle quattro ore settimanali di matematica quindi gli studenti anziché fare quattro ore a settimana di matematica come in tutti gli altri istituti tecnici in questo istituto quelli delle classi a curvatura sportiva fanno un'ora di scacchi a settimana e diciamo che imparano la matematica giocando, quale cosa è migliore di imparare senza faticare troppo perché sappiamo che gli scacchi sono un gioco di logica e poi è uno sport per questo abbiamo scelto di darlo alle classi a curvatura sportiva dare alle classi a curvatura sportiva questa possibilità di fare scacchi durante l'ora di matematica uno sport che però fa media a tutti i livelli ci diceva, giusto? sì, è uno sport che siccome viene fatto durante l'ora di matematica poi c'è una valutazione perché viene un istruttore esterno da Roma ad insegnare e valuta anche i ragazzi in base alla valutazione che i ragazzi prendono che non è di solito inferiore alla sufficienza perché si appassionano davvero tutti i ragazzi e riescono quindi ad ottenere bei risultati, molti sono bravi poi noi facciamo un torneo interno durante l'anno quindi sono stimolati anche sotto altri punti di vista e riescono quindi ad aumentare la media dei voti in matematica perché la valutazione di scacchi fa media con i voti di matematica ottima idea come si fa a non appassionarsi ai scacchi giustamente da quanti anni è partito questo progetto? questo è il quinto anno che facciamo scacchi, che c'è la curvatura sportiva in questa scuola quindi è il quinto anno che facciamo scacchi grazie, grazie alla professoressa Pagliu che avete visto insomma veramente tanti progetti il nostro viaggio continuo nei vari laboratori qui al Medaglia d'Oro restate sintonizzati e grazie a tutti per essere stati con noi alla prossima le interviste di Leggo Cassino grazie a tutti grazie a tutti